Chi l'avrebbe mai detto che mamma Supercell regalava una Evo? Benvenuti a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono MisterEco e oggi siamo tornati a essere come sempre a bomba su Clash Royale ragazzi Oggi con un nuovo video freschissimo signori, perché sì, sono io MisterEco del presente Fino all'altro ieri ragazzi, se non vado errato con l'ultimo video di Royale che è uscito e che oltretutto è andato molto molto bene Era pre-registrato perché sono stato 15 giorni giù in Puglia in ferie e devo dire che me le sono godute Non ho aperto un cavolo Clash Royale ragazzi, se non per controllare un attimino cosa stesse succedendo nel clan Ma nel clan va tutto benissimo perché ci sono veramente dei cocapi e anziani degni di nota Quindi un gg al clan per chiunque volesse entrare nel clan EcoFamily ragazzi, c'è qualche posto disponibile Ma cosa è successo a Supercell? Io me ne vado in ferie e questi stanno a regalare l'evo Ma sono usciti di sgringhella? No, non sono usciti di sgringhella ragazzi, fortunatamente hanno fatto un regalo decente Dovete sapere che Clash Royale ragazzi è uno dei giochi, se non è il gioco di punta per quanto riguarda il pay to win, pay to skip Cioè Clash Royale vuole essere pagato ragazzi per andarci avanti e meno male Supercell ha fatto un regalo degno ragazzi, ovvero una evo Io oggi vi vorrei dire quale evoluzione sarebbe la migliore ma non posso farlo ragazzi Per il semplice fatto che ogni evo è a sé Nel senso, io vi posso consigliare ragazzi anche, esempio, la pirotecnica evo Però la pirotecnica evo ragazzi è una carta molto molto versatile Certo, se non sapete proprio quale pigliare che non c'avete la pirotecnica evo Pigliate quella perché funge bene in qualsiasi tipo di deck Ma esempio, la rete da battaglia evo ragazzi Se non siete giocatori di bridge spam Perché è una carta molto limitata per quanto riguarda i vari deck A disposizione cycle e tutte queste cose qua Non andate a pigliarla ragazzi Se non avete mai utilizzato un deck pecca O un deck che vede come punta di diamante la rete Non pigliatela Insieme alla pirotecnica ragazzi Una delle carte molto molto versatili da avere come evo Sicuramente è la zap ragazzi La zap è freschissima Secondo me una delle evo migliori al momento sul gioco Perché veramente va bene in qualsiasi deck Cycle, pesante, gigante Come la mettete, la mettete ragazzi Ci sta veramente pulita Poi abbiamo gli scheletrini da 1 Prettamente predisposti per deck cycle Lo spiritello del ghiaccio ragazzi Predisposto anche adesso per deck cycle Insomma regà Non vi posso stare a dire Questa è la evo più forte attualmente Dovete scavare dentro di voi Dentro il vostro account E capire qual è la evo giusta Da andare a utilizzare nel vostro deck Io il massimo che posso fare regà È aiutarvi off camera Ovvero commentate qui sotto nel video Oppure mi scrivete su IG Tanto rispondo a tutti Mi mandate il vostro deck E mi dite Ego secondo te quale evo ci starebbe bene all'interno di questo deck Io vi rispondo regà E cerco di aiutarvi il più possibile Questo è quello che posso andare a fare Andiamo a cliccare qua su Scegli la tua evoluzione Io le dovrei avere tutte In questo time of position Quindi non è che gli arcieri Ce li ho Occhi di falco bellissimi I barbari ce li ho I pipistrelli ce li ho Hanno aggiunto lo stregone Ieri è stato hittato Su Instagram Così bello fresco Mago Bellissima evoluzione Anche essa Il percussore La rete da battaglia Spiritello del ghiaccio Questo sicuro se lo va a pigliare Il nostro grandissimo Zack Royale Vediamo se riusciamo a fare qualche contenuto Insieme a Zack Perché mi farebbe un sacco piacere A lui gli serviva questa evo E nella season in cui è uscita Non l'è riuscita a prendere Quindi sono abbastanza sicuro Che andrà a optare lui Per lo spiritello del ghiaccio Tornando al discorso di prima Gli serve come evo Sa che il suo deck principale È quello Quindi lui Veramente riceve Un bel e ottimo regalo In modo tale che il suo deck Entra più in meta Grazie a questo spiritellino qua Il cavaliere ragazzi Per i deck cycle La Valkyria Bellissima Gigante Royale Ottima win condition Che penso abbiate un po' tutti quanti Ragazzi Perché è stata regalata Anche nel 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 robo di San Valentino Se non vado errato E vi ho consigliato Di pigliare il Gigante Royale Gli scheletrini Il mortaio La piromane ragazzi Per non chiamarla In un'altra maniera Il bombarolo Le reclute La tesla Gli spaccamuro Che sono propriamente A sé ragazzi C'è qua Stesso discorso Per le reclute Magari Diciamo così Se andate a optare Per gli spaccamuro Signori O utilizzate Mk Magari il deck di erbacce Vi possono tornare Tanto Tanto utili Ma sono mirati Allora Regà Io ce li ho tutte Quindi Per dover di cronaca Mi vado a pigliato Che te che te che te Dove di Scelgo il mago Così Per il content E possiamo cambiare La scelta Ragazzi Bene 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 Quindi si può cambiare Sempre la scelta Quindi magari Se avete fatto una scelta In questi giorni Dove io non ero attivo Signori Mi mandate il deck Già ve l'ho detto Vi do una mano A scegliere Entra in gioco Dal 4 al 13 settembre Per ritirare gratis Dal negozio L'evoluzione Che hai scelto Fantastico Regà Io stasera Oltre tutto Questa Mbaradan Signori Mi raccomando Poi nel lecchino Di supporto E tutto ciò Che ne concerne Faccio una bella Live Ozza Regà Per andare a recuperare Quante più corone Possibili Penso di startarla Va per le 21 Barra 21 E 30 Quindi io Vi aspetto Vado a giocarmi Qualche match Ragazzi Con il mio amatissimo Bridge spam Non tocco Royal Da un sacco di giorni Quindi Vediamo un po' Chi ci mette contro Zio Clash Royal Come potete vedere Io all'interno del mio Bridge spam Grazie al commettino Che mi avete dato voi In una live Sono andato a inserire La pirotecnica Che veramente Mi torna Tanto tanto utile Ho visto in mita Un altro bel deck Bridge spam Con il pecca Con La doma Tra Della realtà Quindi potrebbe essere Un change Bello fresco Anche quello lì Di là ci siamo arrivati Poco Ma ci siamo arrivati Ragazzi Quindi ottimo Ok Questa strega Non dovrebbe essere Un problem Perfetto Mega sgherro Di là ci ha tirato Una hit Va bene Siamo partiti Molto molto bene Ragazzi Perché comunque sia Dannetti Ne abbiamo fatti Guardalo Guardalo che figata Guardalo che figata Fantastica Che figata Fantastica Ok cannon cart Vado tra virgolette A Buttare Questa pirotecnica Perché Il cannon cart Penso che me la faccia Fuori tantissimo Invece no ragazzi Buona 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 Zio germ Devi stare attento Zio germ Non ho capito Questa fireball Fratellino Non l'ho capita Proprio Di là Ti abbiamo buttato Giù Toccare royale E farci subito Una win Così Stra fresh Stra strong Sarebbe Molto Molto Succulento Ovviamente Le torri di squadbusters Ragazzi O passano le ferie O passa l'estate O passa l'anno Sempre Ci Sono Allora Andiamo con la Bensk Perfetto Bella centrale Così per vedere Un po' Lui cosa Ci va a tirare A me sa che il tipo Se rrr Se rrr Lui va bene Bravo Ok Pulito Ti vuoi rrr Non c'è nessun tipo di problema Anzi Velocizzi Il processo Di push Magari stasera Li troviamo Ragazzi I cristiani Che si ritirano Appena gli buttiamo Giù una torre Vi alzo il volume a palla Perché Dovete godere Belli induciti Ovviamente Se vi manca una evo E siete stati Sciopponi con i pass Come il sottoscritto Optate per quella evo Lama Penso che questo Ci arrivate da soli Signori Non è che Insomma Insomma E così Non è che potete avere Margine d'errore Sotto quel punto di vista Allora Questo c'ha Il bombolone alla crema Proprio tanto Ma proprio tanto Regà C'ha il bombolone alla crema Ce lo dà proprio in testa Il bombolone Regà Lui Ce lo dà proprio in testa Lui il bombolone Andiamo a fare di questo Con il mago zap Se no pigliavamo Troppi danni Da quei pipistrelli Devo fare Un ruttino Mega galattico L'ho fatto Regà Ma vi ho risparmiato Tutta la sentenza Allora Lapide Per il nostro opponent Casper Draghi d'ossa Questo me puzza Di mastino Lavico Ragazzi Va bene Non so che fine Abbia fatto La torre della ducessa Dei pugnali Signori Se è ancora utilizzata Oppure È morta Definitivamente Lo scopriremo Solamente Vivendo Andiamo con La rete Ok Eccola la mongola Eeeh Cacchio Merda 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 Ok Una etta L'abbiamo pigliata Eeeh Una etta L'abbiamo pigliata Per forza Ragazzi Ok Qui devo andare A fare di questo Lui è stato Molto molto bravo Sulla sinistra Tacci sua Regà Questo è francese Ma E' gustoso Lui C'ha la lapide E qua devo andare Di fireball Ragazzi Qua devo andare Di fireball Se no ci fanno malessi E devo rifocillarmi I di elisir Se no zio Degli oscar wild Ci fa veramente Male 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 Allora Manco a dire Che il pecca Ci può tornare utile Regà Perché C'ha quella Maledettissima Witch Perché è maledetta Quella witch Ragazzi Quindi dobbiamo Attendere l'overtime La piromiser Sulla sua mongolpira Tantissimo proprio Andiamo con la bandit Ok Io ti direi di pecca Io ti direi di pecca Ok Perfetto Ti direi di pecca Ti direi di pirotectame Di qua Ti direi di zab Ok Ti direi di bandit Ok Witch C'è stata fatta fuori Ottimo Andiamo a fare di questo Ok Andiamo con il mago zap Ok Bella la pirotecnica Di là Puleta 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 Abbiamo fatto Abbiamo fatto molti Molti danni Abbiamo fatto veramente Tanti 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 Danni Ragazzi Ma proprio un botto Andiamo con il pecca Ok Andiamo con la zap Ce ne stiamo freschi Ok Ok Andiamo con il mago zap Di qua Ok Andiamo con il pirotectame Di qua Ok Andiamo con la rete Da battaglia Dovremmo starcene Abbastanza sensitive Regà Ok Andiamo con la zap Ok Andiamo a fare di questo Eh regà Non riesco a penetrare Dai Dai bandit Una bella bottacchia Ok Mamma mia Bellissimo Stasera prevedo un tasso Andiamo contro una marca di condizionatori famosissima Prevedo un tasso regà di incavolatura Per non dire proprio la parolaccia Abbastanza elevato Valkyria Procediamo subito Ecco Mamma mia Mamma mia ragazzi Cioè proprio così me lo stai a dire Porco due Proprio così me lo stai a dire Zap Dov'è il mio pack Ok Ok Mamma mia Mamma mia Regà Ce siamo difesi Questo è l'importante Ce siamo difesi Questo è l'importante Ok Ok Buona Siamo entrati pure molto molto bene Oh Barbarozzi Sceltozzi Per lui Proprio così Il lavanda Proprio ce li butta Ma come cacchio sto a parlare Il lavanda Va bene ragazzi Voi mi amate anche per questo Quindi top Io mi diversifico dalla massa Parlando in maniera stramba E senza senso Va bene Andiamo con l'arietone Questo mo mi tira il peccone Proprio Inducito Ok Va bene Va bene Fireball Fireball Ok Così facciamo fuori un po' tutto E andiamo a fare anche danni Zap Per non saperne leggere Ne schifiare Ok Perfetto 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 Buona Buona Allora Questo c'ha pecca Regà E barbari scelti Quindi Attenzione Battaglion Che zio condizionatore Ci può fare veramente Tanto tanto Da non Allora Qua ovviamente Tantissimi potranno dire Zio vai di pirotecnica Fai danni No 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 E no Andiamo con il pecca Bello inducito Andiamo con la pirotecnica Bella inducita anche essa Ok Vabbè Vabbè Ok L'ultima botta Gliela ha data Quindi Mago zap Ok Non mi ha fatto fuori Il mago zap Quindi Over the top Abbiamo la rete Da battaglia Bello fresco Ok Andiamoci con questo Ok Andiamoci con questo Aia Andiamo a fare di questo Ho missato la zap Andiamo a fare di questo Ora Ora This point of situation Ora che facciamo tanti danni Ok 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 Mole di danni Belle in gente Ragazzi Mole di danni Belle in gente Mi è piaciuta Mi è piaciuta This point of situation Mi è garbato un tot Andiamo a fare di questo Andiamo a fare di questo Ok Andiamo a fare di questo Con il maguitos zapitos Ok Buona Andiamo con l'arietone Andiamo con lo zappone Ok Zapponeta Zapponeta Zambrotta È arrivato sotto Mamma mia Zio Zambrottone Vi lascio la freschezza Non toccando Clash Royale Da un botto di tempo Regà 3 win Su 3 Fantastic Andiamo a vedere Cosa ci abbiamo Vabbè Roba gratis Che poi si trasformerà Scusate Il roba a pagamento Ma è not A really Problem Andiamoci ad aprire pure questi Guardate Il leggendario Guardate Non è vero 1500 di euro Va bene Allora regà Noi quello che dovevamo fare L'abbiamo fatto Aspetto i vostri commenti I vostri messaggi Sul sito delle foto Per avere qualche delucidazione Magari su che evo Scegliere Noi ci vediamo stasera Ragazzi Ore 21 Barra 21 e 30 Qui Sul canale Per andare a pushare Insieme Verso Le prossime leghe Ragazzi Non sono le leghe pokemon Purtroppo E vediamo di non bestemmiare troppo Abbiamo ancora 5 giorni a disposizione C'è tempo ragazzi Mi raccomando con il like Salutatemi giù nei commenti Io vi mando un abbraccio enorme E ciao ciao La misteri Ciao